Musica Bentornati ad una nuova edizione di Quotidiano TV del 30 dicembre. Iniziamo con la cronaca regionale. Un uomo di 60 anni è morto, stroncato da un arresto cardiaco al culmine di una viola entilite con la moglie, una 38enne di origine cubana. La tragedia è venuta a Como in via Riense, nell'abitazione della famiglia, dove erano presenti anche due figli della coppia, di 4 e 14 anni. La donna è stata arrestata con l'accuso di omicidio preterintenzionale ed ora è rinchiusa nel carcere del Bassone. Donne anziane nel merino dei malviventi a Milano. Quattro pensionati sono state prese di mira dai banditi nell'arco di nemmeno 24 ore. Una truffa è stata messa a segno proprio nel pomeriggio di lunedì, poco dopo le 13, in via Dora Baltea, dove un finto poliziotto ha chiesto a una donna di 82 anni di entrare in casa per controllare che ci fossero stati dei furti. Quando l'uomo, spacciatosi per agente, è andato via, la donna si è accorta della scomparsa di 500 euro contanti, di alcuni gioielli e di un orologio. Paura il 28 dicembre sul Resegone pare a uno boy scout disperso, ma fortunatamente con un esito positivo. Paura domenica sul Resegone, dove uno scout di 18 anni non ha dato notizie di sé per alcune ore. Il ragazzo faceva parte di un gruppo salito in montagna per un'escursione. Mentre stavano scendendo, ha perso l'orientamento ed ha seguito un altro sentiero. I compagni hanno quindi chiesto aiuto. Sono partite le ricerche da parte dei tecnici della sesta delegazione orobica del soccorso alpino, con il supporto della diciannovesima delegazione lariana per la parte lecchese confinante. Il ragazzo nel frattempo aveva raggiunto il paese di Fui Piano Imania, dove ha segnalato la propria presenza intorno alle ore 21. Passiamo ora alla cronaca cremasca e cremonese. Lunedì 22 dicembre, la Giunta Comunale ha deliberato la costituzione degli organismi di rappresentanza organizzati per Crema Città Europea dello Sport 2016. Importante appuntamento sportivo e sociale che fra poco meno di un anno coinvolgerà l'intera città. Per sviluppare tutti questi aspetti legati alla nomina, è stato necessario trovare alcuni organismi al fine di definire e sviluppare al meglio tutti gli aspetti tecnico, organizzativi ed economici. Controllo straordinario dei carabinieri alla vigilia di Natale nel territorio cremasco. Diversi posti di controllo lungo le principali strade di eccesso di crema e nei parcheggi dei centri commerciali, mediante l'impiego di 10 pattuglie e diverse auto civerta. I militari hanno controllato 4 esercizi pubblici, identificando oltre 100 persone, delle quali alcune censurate per reati di vario genere. Arricchiviato il Natale con una pausa preventiva per il Capodanno, proseguono i preparativi per l'edizione numero 29 del Gran Carnevale cremasco, che per la complessità della macchina organizzativa comporta un impegno costante e senza sosta. 4 le settimane di festa con le sfilate dei cari allegorici nel circuito di Porta Umbriano, nelle domeniche del primo, 8, 15 e 22 febbraio. Purtroppo si parla ancora di vandali, i quali hanno colpito questa volta il presepe dei sabbioni. Statue di animali rovesciati, ambientazioni a soquadro, frutta sparsa nel piccolo piazzale all'ingresso e cassetti e pentole ribaltati nel locale adibito alla distribuzione delle bevande calde. Così alcuni volontari hanno trovato stamane il presepe dei sabbioni, comunque già ripristinato e reso accessibile al pubblico. In 26 anni, ha commentato Mirka Dossena, presidentessa del presepe, non era mai successa una cosa del genere, al massimo aveva rubato una bicicletta. Per fortuna non ci sono grossi danni, il danneggiamento ha coinvolto il primo tratto del percorso del presepe. Alcune statue rovesciate, altre ancora sparpagliate nell'ambientazione, senza però subire danni irreparabili. Unica eccezione è un'anatra decapitata. Danneggiamenti anche al locale dove vengono distribuiti tè caldo e vin brulee. Sul mobilio all'interno sono apparse bestemmie scritte a pennarello. I cassetti e le pentole sono state ribaltate. Sul fatto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Crema con una ferma condanna ai vandali. Il presepe è una ricchezza per tutta la città di Crema e non solo. Colpendolo si è offesa a tutta la cittadinanza. Auspichiamo, conclude il comunicato, che fra quanti fanno visita al presepe ci sia chi desideri e possa unirsi ai volontari per portare a termine l'opera di ricostruzione. Trattiamo ora la cronaca bergamasca. Due malviventi hanno rubato 17.900 euro dalla cassaforte facendosi riconsegnare dalle due impiegate alle quali hanno poi legato le mani con fascette da imballaggio. I banditi, uno dei quali armato di pistola, sono entrati in azione sabato 27 dicembre alle 12.30 quando nell'ufficio situato nella centrale piazzetta della cooperazione dove a sede anche la cassa rurale c'erano le sole dipendenti. I malviventi sono poi riusciti a fuggire. Si tratta del nonno colpo alle poste di Calvenzano. Tragedia Bergamo nel pomeriggio del 29 dicembre. Secondo le prime ricostruzioni un sessantenne era appena entrato nel locale al civico 90 di via Carnovali per bere un caffè. Improvvisamente si è sentito male ed è stato subito il soccorso dei presenti che hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivata un'automedica e un'ambulanza del 118. Il personale sanitario ha cercato di arrimarlo per circa mezz'ora ma purtroppo l'uomo non si è ripreso. Ci spostiamo a Quintano dove ieri pomeriggio intorno alle 13 si è verificato un incidente stradale. Frontale ieri nel primo pomeriggio verso le 13 al semaforo di Quintano, un piccolo paese in provincia di Cremona. Due macchine coinvolte, una Golf proveniente da Crema con a bordo una famiglia e una Panda da Vailate. Semaforo verde, tutte e due sembravano viaggiare tranquille fino a quando la Panda, senza mettere la freccia, gira per entrare in paese. Ma per la Golfa non c'è niente da fare. Le due macchine si schiantano frontalmente fino a spostarsi fin sopra il gradino che delimita la carreggiata. Le auto completamente distrutte. La madre che era sulla Golfa è stata trasportata all'ospedale maggiore di Crema con un braccio rotto insieme alla figlia con una lieve botta al ginocchio. Nulla di grave immediato l'intervento della polizia di Crema e l'ambulanza. Il traffico non ha riscontrato ripercussioni gravi grazie alla collaborazione dei Vigili del Fuoco e la stradale. È stato necessario l'intervento del carro attrezzi per liberare la strada. Ulteriori aggiornamenti in corso. Concludiamo con la cronaca lodigiana. Pronto soccorso presi d'assalto dai lodigiani. Dal 26 dicembre a domenica l'ospedale maggiore di Lodi e il presidio d'emergenza di Codogno si sono vissute giornate di passione con punti di maggiore flusso tra sabato sera e domenica. Nel complesso di due ospedali ci sono state giornate nelle quali il numero dei pazienti ha superato i 340. Ai mari di stagione si sono infatti aggiunte le cadute per il ghiaccio. Continuano gli incendi notturni dolosi a Meleniano. A fuoco in via Pertini un non percorso è intestato in un pregiudicato melenianese di 30 anni. Alle due di notte è scattato l'allarme per i rogo richiamando sul posto due autopompe dei Vigili del Fuoco di Milano una pattuglia dei carabinieri della stazione di Meleniano e una dell'aliquota random mobile di San Donato. Le fiamme sono state circoscritte evitando che fossero danneggiati altri veicoli. Si parla ancora di droga dove il sud Milano è fortemente colpito. Scendono in campo i carabinieri per liberare il sud Milano dallo spaccio di droga in una sola settimana sono stati eseguiti 11 arresti di spacciatori 8 italiani di cui 2 donne, 2 marocchini e un rumeno. I militari hanno provveduto anche alla segnalazione all'autorità giudiziaria di 10 assuntori di sostanze psicotrope sotto sequestro di 17.000 euro e l'eliminazione dal mercato clandestino di oltre 530 grammi di eroina di un chilo e mezzo di ascis di 322 grammi di mariojuana di 40 grammi di semi di canapa indiana di 80 grammi di cocaina 3 grammi di funghi allucinogeni. L'arresto più importante è avvenuto a San Giuliano Milanese eseguito dagli uomini dell'aliquota random mobile di San Donato con la collaborazione della Polizia Locale di Peschiera. Grazie per l'attenzione Quotidiano TV termina qui io vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi. Grazie a tutti.